Dopo l'ONU e Ground Zero, la polvere e la voglia di riscatto di Harlem, quartiere multietnico di New York che cerca di lasciarsi alle spalle il degrado. Nella sua intensa giornata nella Grande Mela, Papa Francesco ha visitato la scuola cattolica Nostra Signora Regina degli Angeli, dove il 70% degli studenti proviene da famiglie di immigrati a basso reddito. Ha girato per i banchi, si è informato sulle ultime ricerche scolastiche e poi si è spostato nella palestra, dove lo attendevano studenti, famiglie e volontari delle Catholic Charities. Le opere diocesane di carità dell'Arcidiocesi. Vogliamo continuare a sognare con voi, ha detto il Pontefice nel suo discorso ai bambini, e festeggiamo tutte le opportunità che permettono di non perdere la speranza in un mondo migliore. Ho saputo che uno dei sogni dei vostri genitori, dei vostri educatori, ha aggiunto, è che voi possiate crescere con gioia. Vi vedo sorridenti, continuate così, contagiate con la gioia tutte le persone che avete vicino. In questa scuola, diventata una grande famiglia per tutti, trovate l'appoggio per continuare a sognare. Dove ci sono i sogni, dove c'è gioia, lì c'è sempre Gesù, ha concluso il Papa, perché Gesù è gioia e vuole aiutarci perché questa gioia duri tutti i giorni.